Buongiorno a tutti cari amici, con questo breve video vado a raccogliere la sfida dell'amico Luca Valerio che come ogni anno ha chiamato alle armi me e Carlo Calabro per pronosticare con l'argo anticipo, dobbiamo dire, in questa occasione, i prossimi partecipanti al Festival di Sanremo edizione del 2024 che sarà condotta ancora una nuova volta da Amadeus. Quindi da qua a febbraio ci sarà tempo per modifiche, però visto che siamo la domenica prima di ferragosto, che le ferie sono finite, ho detto ok, mi cimento anch'io con questo giochino stimolato da Luca Valerio che mi ha già mandato la sua lista, la mia differisce dalla sua per alcuni nomi se non altro e vado a dire che questa lista che comprende al momento 23 nomi che dovrebbero essere quelli che poi alla fine rientreranno nel cartellone dei campioni, di questi detti big, ai quali si aggiungeranno poi i giovani. Quindi rimango anch'io sul 23 come quota e anticipo che questi non sono propriamente i nomi che io vorrei se fossi il direttore artistico, però sono quelli che secondo me, vedendo un po' le scelte che sono state fatte dal direttore artistico e conduttore Amadeus in questi anni, potrebbero un po' rientrare come standard. Vado in ordine random, non in ordine alfabetico, neanche in ordine di merito e neanche divisi per genere, perché ecco penso che sarà ancora molto elevata la quota giovaninistica diciamo così, Amadeus ha molto aperto alle tendenze musicali del momento, con grande successo bisogna ammetterlo, però ecco c'è sempre spazio anche per la casella di classici e io ho voluto aggiungere fortemente quella della musga d'autore, almeno in alcuni esponenti che spero possano avere una chance. Allora comincio però ripeto in ordine casuale, il primo nome che faccio è quello di Anna, questa giovane rapper in piena ascesa, molto diversa da Madame, che aveva gran successo anni fa, ma credo che anche Anna ormai abbia i numeri per poter ambire a presentarsi al Saremo. L'altro nome è quello di Baustelle, l'anno scorso li abbiamo visti impegnati insomma con i Comacose, in duetto i Baustelle sono radici da un buon disco che è arrivato in finale al primo tempo tra i migliori album dell'anno, hanno di recente anche collaborato con Tommaso Paradiso una bella canzone estiva, credo che i Baustelle possano voler finalmente partecipare al Saremo. L'altro nome molto in oggi in questo momento è quello di Alfa, giovanissimo cantante, salito gli onori della cronaca con Bellissimissima, piace anche i miei nipoti e quindi diciamo che Alfa direi che ha un buon seguito, penso che possa far bene anche a Saremo, se la fassa lì mi viene da pensare di Mr. Rain con tutte le lebite proporzioni. Poi un altro nome, qui invece si fa veramente un salto temporale lunghissimo, si va agli anni 90, periodo di massima esposizione del nostro, parlo di Massimo Di Cataldo che è un po' lontano da certi palcoscenici, da certi diciamo anche canali mainstream, però di recente è tornato con una bella raccolta per i 30 anni della sua carriera, piccolo spoiler ecco recensirò il suo disco per il numero prossimo di vinile, quindi Massimo Di Cataldo, ma lui potrebbe tentare anche la carta a Saremo. L'altro nome invece si torna al presente più attuale, quello di Angelina Mango, grande protagonista da Amici e grande protagonista anche di quest'estate dove sta imperversando con la canzone Ci pensiamo domani, che piace anche mio figlio, non so se piace più lei o piace la canzone, comunque Angelina Mango secondo me potrebbe partecipare al festival. L'altro nome è sempre restando in tema Amici, spererei per lui che ci sia questa possibilità, visto che l'anno scorso non l'abbiamo visto su questo palco nonostante avesse vinto l'edizione di Amici, è Luigi Strangis, che si è dimostrato un abile cantante nonché polistrumentista e anche interessante autore, pur essendo molto giovane. Ecco Luigi Strangis mi auguro che possa partecipare per tornare un po' in auge. L'altro nome è Tommaso Paradiso, un nome abbastanza affermato ma nel mainstream, tutti lo ricordiamo nella guida dei giornalisti, però anche da solista sta cercando una sua strada personale, è chiaro che i richiami sui musicali sono sempre quelli che erano cari già alla band. Tommaso Paradiso penso che potrebbe far bene anche su questo palco. Emma Marrone, l'abbiamo vista in più vesti su questo palco, presentatrice, ospite, cantante con già una vittoria alle spalle. Emma, sì, secondo me potrebbe rientrare. L'altro nome, stiamo sempre in tema talent, sempre in tema ex concorrenti anche con Amadeus, è Irama. Irama fece un figurone due anni fa, una canzone molto bella, ovunque sarai. Quest'anno ha duettato con Ernia mi pare, ma non vuole dire una cavolata, no con Arcomi, ecco scusate, con Arcomi, ma insomma un po' il suo habitat è quello Sanremese, dove cambia pelle, insomma diventa più vicino un po' ai cantoattori che non ai rapper. L'avevo citato prima Ernia, è stato un piccolo rabso, perché secondo me Ernia è forte di numeri da capogiro ormai anche sul web, su YouTube, su Spotify, insomma soprattutto di un grandissimo consenso di giovani. Ernia, che è uno dei primi trapper emersi dagli anni 2000 e poi, potrebbe seguire il gesto di alcuni suoi colleghi, come Arcomi, che abbiamo detto prima, quindi Ernia è uno dei miei candidati. Un altro candidato è Coeth, che di anno in anno continua a scalare posizioni proprio anche in termini di popolarità, anche lui ormai si è avvicinato più a una forma di musica pop adulta, se possiamo dire così, Coeth penso che potrà partecipare. L'altro nome, una suggestione che abbiamo spesso io, i compagni d'avventura, Luca e Carlo, è quello dei Nomadi, i Nomadi che hanno festeggiato i 60 anni, stanno festeggiati i 60 anni questo 2023. C'è stata una piccola polemica da parte di Danilo Sacco, l'ex cantante, che aveva ricordato Amadeus che, insomma, sarebbe stato bello poter rivedere sul palco proprio in occasione dei 60 anni e credo che potrebbero riprovarci nel 2024 e magari sarebbe bellissima la copiata tra i Nomadi e appunto Danilo Sacco, che da solista sta comunque portando avanti un suo percorso, molto seguito dai fan, soprattutto storici dei Nomadi, che non hanno dimenticato la sua avventura, la sua parentesi, molto lunga e fortunata nella band, che attualmente vede alla voce Yuri Cilloni, ma penso che potrebbero entrambi duettare in occasione di, insomma, una così importante vetrina come quella San Rames. L'altro nome è quello di Fiorera Manoia, qui diciamo sui nomi di Super Big, Fiorera Manoia rappresenterebbe la canzone d'autore, rappresenterebbe l'anima femminile più raffinata, forse che abbiamo in Italia e quindi credo che Fiorera Manoia, dopo aver ben figurato con che sia Benedetta, anche se poi lo so, il trauno e il vincitore a Francesco Cabbani impara a confiorare Manoia, potrebbe riprovarci. Torniamo in ambito un po' più pop, più trap, insomma, chiamiamolo come vogliamo, perché spesso le cose si mischiano, almeno in questi ultimi protagonisti che stanno emergendo, ecco lui è Shiva, anche lui ha un seguito importante tra i giovani, giovanissimi, potrebbe essere lui, forse un nome a sorpresa che potrebbe pescare Amadeus, quindi Shiva. Classiconi invece, torniamo indietro, insomma il quindicesimo mio candidato, Biagio Antonacci, Biagio Antonacci da un tempo in membro, ma non partecipa più al festival, però credo che la strada sia stata tracciata da altri Super Big, insomma sono tornati in gara Elisa, Giorgia, credo che anche Biagio Antonacci possa, diciamo, potentare questa strada qua, ma non deve più dimostrare niente a nessuno, una carriera in spagna importantissima, un po' parnata, proprio perché è uno di quelli che è stato un po' spazzato via da questa onda di nuovi artisti trap, pop, indie. A proposito invece di giovani che l'anno scorso sono fatti ben valere, anche loro una bella citazione al primo tempo, sono arrivati in finale tra i migliori esordi dell'anno, sono i colla zio, a me non fanno impazzire, dico la verità, insomma, però credo che possono anche tentare di tornare, mare con più esperienza anche su questo palco, più esperienza sui palchi, insomma, visto anche i concerti fatti, e anche mare forti di una maggiore popolarità acquisita, insomma, con l'azio li metto come candidati. Un altro gruppo che però, più un gruppo mascherato ormai come solista, parlo dei Tiro Mancino, di Federico Zampaglione, Tiro Mancino che hanno avuto altri anni fortuna al festival, ma che da qualche anno sta parte, insomma, Federico ha ritrovato nuova linfa, anche avvenendosi collaborazioni importanti con giovani, giovanissime, l'avena autoriale non gli è mai mancata, insomma, Tiro Mancino, potrebbero veramente tornare alla grandissima al festival di Sanremo. Poi un giovane che deve, come trovare la sua strada, è Federico Rossi, del duo Benjefede, ecco Federico Rossi, insomma, rischi di, anche lui veramente, sai, i smiting idol hanno questo triste destino, spesso che i mari fanno un super successo, sono osannati da orde di fan e poi però arrivano quelli dell'anno successivo e vengono spazzati via. Federico Rossi deve rimostrare un po' di essere diventato adulto, affrancarsi anche da questa nomea del team idol, appunto, rimane un bel faccino pulito, però insomma, adesso dobbiamo far parlare la musica, quindi Federico Rossi, prova a candidarti. Altro nome, cantante, molto molto interessante, talento purissimo e ho anche molto molto considerato in tanti ambienti, anche vicini alla critica, sto parlando di Margherita Vicario, ultimamente l'abbiamo visto anche collaborare con Vinicio Caposega, sempre a proposito del Premio Tenco, che lo tiro in ballo spesso perché figuro tra i giurati, ecco, Vinicio Caposega di essere giudicato la Targa come miglior album dell'anno, in una delle più belle canzoni partecipa proprio Margherita Vicario, che, ripeto, insomma, avrebbe bisogno di ampliare la sopra terra perché ha tantissime potenzialità, per piacere anche un vasto pubblico, non soltanto quello di nicchia. Poi una mia bellissima suggestione è quella da Carmen Consoli e Max Gazze, abbiamo visto i due tali quest'estate, sono amici di Vecchia Data, hanno, secondo me, un background molto simili, hanno anche proprio un'attitudine che mi fa ricondurre, insomma, certo musica anni 90, loro hanno sempre un po' l'ambito, il mainstream, l'alternative, con risultati anche stupefacenti nel periodo d'oro della carriera, ma, insomma, sono nomi affidabilissimi, direi di fuori classi della nostra musica, quindi magari vederli sul palco. Mancano tre nomi, diversissimi tra loro, cominciamo a San Giovanni, l'anno scorso non è tornato a Sanremo, però l'abbiamo visto di recente protagonista con Mr. Rain, San Giovanni, insomma, si è toglione della cronaca, soprattutto per motivi estramusicali, si è mollato con la sua fidanzata, Giulia Stabile, che si è conosciuti ad amici, insomma, adesso San Giovanni, anche tu diventa adulto, sei giovanissimo, però, insomma, non riesco anche tu di tar parte gli ali, se non torni alla grande Sanremo, o comunque con una canzone bomba, anche per tema del stesso motivo, è usato per altri, insomma, ci sono tante nuove leve pronti a superare quelli precedenti, quindi San Giovanni porta una canzone a Sanremo e riappropriati dei tuoi fan, dei tuoi numeri. Poi, canzone d'autore con la propria maiuscola, Dario Brunori, conosciuto anche come Brunori Sass, l'abbiamo visto anche di a Sanremo come ospite, è molto raffinato, ironico, talentoso, insomma, ha pubblicato album, direi uno più bello dell'altro, l'ultimo in ordine di tempo è cheap, miglior album dell'anno, quell'anno, votato da segna d'autore, Brunori ha anche questa, però, capacità di arrivare dritto al pubblico, non è molto ermetico, non è uno di quei cantautori, insomma, intellettuali o lontani un po' dalla gente, quindi Brunori potrebbe veramente piacere a un pubblico vastissimo e che ne so, insomma, proprio anche, forse, piazzarsi molto, molto in alto. Chiudo invece con un altro cantautore giovane, che anche lui è partito dall'indie, che però, insomma, ha raggiunto numeri importantissimi, ha una penna molto, molto vivace, molto originale, è Gazzelle, cantautore romano, piace molto, uno di quelli giovani che preferisco, piacerebbe sì vedere sul palco. Bene, sono arrivato 12 minuti, quindi ho clamorosamente sforato quelli che sono stati, quello che è stato il video di sfida, appunto, il guanto di sfida lanciato dall'amico Luca Valerio, questi sono i miei nomi, quindi candidati, comunque avremo modo di risentirci. Ciao a tutti e buon Sanremo, insomma, siamo quasi a ferragosto, quindi, sono tante cose che pensare, inizierà anche il campionato di calcio fra una settimana e quindi, insomma, poi ci sono le fantacalcio, tante robe, però, insomma, ecco, Sanremo è un appuntamento che a noi piace sempre un po', quindi, ecco, siamo già pronti. Ciao ciao a tutti!